Musica Si occupa del pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Mamma mia che gol! Stiamo osservando lo scambio di strette di mano tra calciatori e arbitro e poi si procederà con il tocco che avverrà a breve, capitani faccia a faccia! Dunque batteranno i ragazzi dei Super Santos che attaccaranno da destra a sinistra dei vostri tre schermi, inizio di primo tempo tra Rebels e Super Santos, 0 a 0 il parziale quando sono tascorsi pochi minuti all'inizio del match! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie! 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 Rebels e FC Super Santos, 1-0 il parziale, così come lo avevamo lasciato a fine pieno tempo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.